ciao amici followers e bentornati a devo dirti un fatto il podcast di approfondimento di consigli non richiesti oggi mi trasformerò in un gomblottista e vi narrerò del complotto che c'è dietro i videogaves e il complotto è questo ma sarà stato bruce lee a creare videogiochi sarà vero sarà ferguson scopriamolo dopo la sigla devo dirti un fatto pensieri a caso su argomenti a caso allora la cosa importante delle teorie ragazzi è che possono essere smentite quindi vi dico questa è una mia idea che non ha fondamenti il bello di essere un minchione è che puoi dire quello che vuoi e nessuno può delegittimare quello che dici al massimo ti becchi una pernacchia ora detto questo se volete darmi ragione o darmi torto potete scrivere nei commenti sotto e magari iniziare una discussione ma iniziamo con il gomblotto su bruce lee però prima di parlare di bruce lee vorrei partire da quando è nato il videogames si parla del 1972 è il primo prototipo del gioco di ping pong che poi verrà chiamato pong dove per chi non lo sapesse c'è un bastoncino su schermo nero è un pallino che viene sbattuto fuori da questo bastoncino e dall'altra parte dello schermo c'è un altro bastoncino che catapulta il pallino dall'altra parte quindi a creare un generico anzi uno scheletrico gioco di tennis con i due bastoncini che si allazzano la parla da una parte all'altra da lì poi videogioco si è evoluto oggi passiamo possiamo parlare di una vera e propria arte con trame sofisticate con decisioni morali e trame dove non è più il creatore della storia a dirci cosa vivere come nei film o nei libri ma siamo noi i giocatori a decidere dove portare la trama e cosa vivere e un media a tutti gli effetti ed è secondo me un nuovo tipo di arte ma prima all'inizio quando si deve creare un tipo di arte nuova si crea un nuovo strumento per fare arte prendiamo per esempio quando è nato il cinema quando è nato il cinema si aveva questa nuova tecnologia questa pellicola queste cose in movimento che si potevano creare immagini in movimento qualcosa di nuovo ma quando c'è una nuova tecnologia non la si sa usare appieno sin da subito bisogna un attimo capire come usarla e molto spesso si cerca di guardare indietro si cerca di prendere spunto da altre cose per iniziare a lavorarci su molto spesso quello che viene da dire che all'inizio il cinema veniva visto come una specie di teatro meno figo se mi permettete il termine figo perché non c'era l'audio perché si metteva in scena quello che di solito si vedeva a teatro solo che in teatro li vedevi gli attori gli attori potevano parlare erano molto più belli gli spettacoli teatrali rispetto ai primi film poi però il cinema si è evoluto ha trovato una sua strada e oggi possiamo dire con tranquillità che il teatro e il cinema sono due cose completamente diverse secondo me il videogioco ha fatto la stessa identica cosa ma andiamo con ordine segniamoci la data pong il primo videogames è nato nel 1972 andiamo un attimo invece nel mondo del cinema molto spesso si dice che quel film è un videogioco perché utilizza gli stilemi del videogioco però ci sono alcuni film che hanno iniziato a farmi capire che è il videogioco che si è ispirato a quel film quindi diciamo che è il media videogioco che ha preso da quel film e se l'è portato nel suo media mi viene in mente il film The Warrior un film del mitico Walter Hill e che per chi non conoscesse Walter Hill è quello che ha fatto un film del calibro di 48 ore un film dove c'era ancora un Eddie Murphy che sapeva recitare e niente allora questo film qual è la trama di The Warriors che comunque se volete su Amazon Prime Video e vi consiglio di guardarvelo perché è davvero un bel film da noi è conosciuto come i guerrieri della notte ci sono una banda di criminali che si deve incontrare con in un gruppo una specie di riunione tra bande di criminali perché vogliono un attimo unirsi ci troviamo a New York ogni quartiere c'è la sua banda o la sua banda con le sue caratteristiche le sue armi ci si incontra a Central Park perché ci si vuole mettere d'accordo e dire oh ragazzi se ci contiamo noi bande criminali siamo tot la polizia è molto di meno rispetto a noi uniamoci e facciamo nostra questa città solo che succede viene ucciso il capo tra virgolette quello che aveva indetto questa riunione danno la colpa ai The Warriors il nostro gruppo i nostri protagonisti e quindi loro verranno devono tornare fino a Coney Island che è la loro base da Central Park tutta la notte dovendo affrontare tutte le bande che gli vogliono fare un bucio di culo quindi arrivare da un punto a a un punto b affrontando nemici sempre più forti e sempre diversi cosa vi viene in mente la struttura di un videogioco a scorrimento laterale infatti i primi giochi a scorrimento laterale che sono usciti in quegli anni tipo mi viene in mente Double Dragon sono molto simili come concetto e come struttura al film di The Warrior quindi nella mia testa ho sempre pensato che fosse stato Walter Hill il primo a creare il primo film che ha ispirato il mezzo videogioco che poi ovviamente una volta iniziato ad ispirarsi al cinema ha trovato la sua strada e ora è tutt'altra cosa però si sa gli inizi è sempre bello andarli a vedere perché ti fanno capire da dove si è partiti perché come ho parlato nella puntata precedente il videogioco iniziò come il cinema che non aveva l'audio il videogioco aveva pochi mezzi i pixel erano pochi le cose si potrebbero mettere video erano pochissime e le musichette 8 bit potevano fare solo alcune melodie che però comunque sono rimaste ancora negli orecchi ricordiamoci ancora il videogioco The Deagle se non sbaglio si chiamava quella con la canzone Popcorn che faceva ancora adesso me la ricordo e quindi diciamo che le limitazioni come vi ho già detto fanno fare delle belle cose però di recente sulla sette avevo iniziato a fare i film di Bruce Lee film di arti marziali e avevo visto questo film di Bruce Lee chiamato l'ultimo combattimento di Shane in questo film che è stranissimo Bruce Lee non c'è quasi mai nel film cioè Bruce Lee parte nel film che combatte contro come cavolo si chiama quello con la barba fortissimo che fa Walker Texas Ranger a Chuck Norris parte con Chuck Norris Chuck Norris combattono e lui batte Chuck Norris peccato che questa scena è stata presa dal film precedente scopriamo infatti che la scena presa dal film precedente di Bruce Lee è ricopiata paro paro in questo nuovo film fa parte di un film nel film scopriamo che il protagonista di Bruce Lee nient'altro che è un attore che recita la parte di Bruce Lee nel film di Bruce Lee tu dici vabbè solo che vediamo sempre Bruce Lee di spalle a un certo punto nel film lui viene ucciso e per qualche strana ragione lo vogliono fare fuori lui fa finta di morire e si fa tipo tra virgolette di fare la faccia e da l'ora in poi nel film vedremo un altro attore interpretare Bruce Lee a parte che la scena del funerale di Bruce Lee all'interno del film ho scoperto che è reale perché Bruce Lee è morto durante le riprese di questo film e tipo i produttori intelligentemente hanno preso proprio le scene del funerale vero di Bruce Lee dove è per questo che nel film lui interpreta un attore che muore perché è proprio la scena di una star che muore con la gente che tocca la bara è una roba creepy non so come abbiano fatto a mettere nel film una roba del genere comunque hanno utilizzato altri attori non per scelta tecnica non per scelta di trama ma perché Bruce Lee era morto e alla fine rivedremo Bruce Lee nell'ultimo quarto d'ora finale del film che combatterà in una pagoda contro avversari sempre più forti mi sono andato a informare perché per quelle poche volte che poi Bruce Lee si viene visto nel film tipo ho gli occhiali da sole ed è un generico cinese messo in londananza in modo da non riconoscerlo oppure viene proprio incollato fotocopiato su un personaggio a caso e si vede proprio che il frame è stato proprio tagliato incollato è una cosa veramente come dicono i giovani cringe mi sono andato a informare e ho scoperto che l'ultimo combattimento di Chan Game of the Dead era in realtà un progetto di Bruce Lee che aveva una trama ben precisa quella di spiegare la filosofia delle arti marziali o almeno la filosofia del Jet Kune Do la sua arte marziale che è un'arte in continuo mutamento per spiegare questo tipo di arte quest'arte di combattimento in continuo mutamento aveva pensato una trama semplicissima in questa trama il prossimo gioco principale si recava in una pagoda e doveva affrontare per ogni piano di questa pagoda un avversario sempre più forte con uno stile d'arte marziale ben preciso sempre diverso fino allo scontro finale all'ultimo piano dove affronterà l'avversario finale e potrà raggiungere il suo scopo che è quello di recuperarlo mi ricordo cosa mi sa una pergamena una roba così comunque fermiamoci un attimo a riflettere l'idea di Bruce Lee era quella di spiegare come il suo stile di arti marziali in continuo mutamento si poteva combattere qualsiasi stile invece statico che erano gli stili di arti marziali nati fino ad allora che avevano quel range di mosse e nulla più tipo il Jet Kune Do tipo il Karate quindi lui andava dentro affrontava degli avversari limitati e cercava di capire come battere questi pattern di azioni ben precise mi state capendo? Lui affrontava un avversario più forte a ogni livello della pagoda con avversari con mosse ben precise mentre il personaggio principale una volta capito il pattern poteva sconfiggere questi avversari fino ad arrivare al boss finale ragazzi questa era la struttura di un videogioco i videogiochi tanto tempo fa magari più giovani non si ricordano avevano dei concetti ben chiari il quadro che era quello dove si svolgeva l'azione era lo schermo a volte era solo una schermata e videogioco il fatto che la difficoltà era sempre crescente il fatto che a ogni fine livello ci fosse un boss da battere e che ogni livello avesse il suo boss fino al boss finale Bruce Lee aveva creato il concetto dietro un videogioco anche l'imparare il pattern delle mosse dell'avversario il trial and error capire come affrontarlo e poi una volta imparate battere ad occhi chiusi creando un film sulla filosofia delle arti marziali l'idea comunque di questo film non è stata poi alla fine eseguita per la morte di Bruce Lee è rimasto soltanto un quarto d'ora di film messo alla fine dell'ultimo combattimento di Chen che col vecchio film l'idea originale di Bruce Lee non aveva nulla a che fare anzi in quel film la cosa bellissima che possiamo vedere è Bruce Lee con la tutina gialla poi utilizzata da Uma Thurman in Kill Bill un'altra grande citazione che ha fatto il mitico Tarantino al film Kill Bill però quello che voglio dire è che Bruce Lee secondo me il suo film o l'idea del suo film è stata la base per quello che sono stati poi i videogiochi per tutti gli anni 80 e 90 almeno secondo me ancora di più di The Warrior perché a pensarci bene The Warrior già utilizzava concetti che aveva utilizzato Bruce Lee anzi anche un po' di meno il concetto di boss finale il concetto proprio di livello di salire tipo di salire di livello di affrontare nemici sempre più forti fino ad imparare il pattern di tutte le mosse per battere chiunque ragazzi questo è il mio complotto secondo me Bruce Lee tra le varie cose ha creato la struttura dei primi videogiochi o almeno è stato da base per quello che poi adesso è diventato il maggior incasso l'industria con il maggior incasso della storia infatti il videogioco da qualche anno a questa parte guadagna più del cinema secondo voi la mia teoria è una cazzata è una cosa giusta c'è del vero c'è del falso avete delle teorie in merito qualcuno di più studiato di me ne ha parlato e vi ha dato delle informazioni più convincenti delle mie non lo so io vi metto questa pulce nell'orecchio secondo me Bruce Lee è stato l'uomo che ha ispirato tutti i videogiochi almeno fino ai 32 bit è vera come cosa? è falsa? buh scrivetemelo nei commenti oppure scrivetemelo su Instagram oppure mandatemi a quel paese fate quello che volete ma non restate lì fermi a non pensare perché il pensiero è importante chi si ferma è perduto non ci sono più le mezze stagioni signora mia una volta qui era tutta campagna buonanotte e buon mattino da Frecht alla prossima piccolo post scrittum a fine puntata ho finito la registrazione ho riascoltato l'episodio e ho scoperto di aver detto una cavolata il videogioco che ho citato con la musichetta insomma non era The Diggle ma era Digger quindi scusate l'errore l'emozione è che quando faccio le cose vado a memoria e intanto ci si sbaglia ma che volete fare chi non fa non sbaglia niente alla prossima ciao